Amici del mondo del caffè, oggi proviamo una miscela per mocha del caffè maia il caffè maia è una torrefazione di como artigianale e quello che proviamo oggi è la mocha confezione da 500 grammi di miscela per famiglia la miscela per famiglia è una miscela da tutti i giorni che noi abbiamo in mente sul nostro sito della ovviamente quella più diciamo economica e adesso lo apriamo, apriamo il nostro caffè e poi lo proveremo con la mocha è una miscela che essendo famiglia ha una certa percentuale anche di robusti infatti si sente un po' il profumo amaro però è sicuramente una miscela che darà dei buoni risultati allora adesso prepariamo il caffè con la mocha oggi proviamo la mocha argento della GHA è una mocha particolare perché ha un trattamento che è antimuffa, anticorrosione e quindi è proprio l'ideale per preparare il caffè tutti i giorni in modo da non... ecco qua... mettiamo l'acqua lasciamo a pulire... la caffetiera si può pulire bene dopo una mocha da quattro tazze ma noi che siamo particolarmente appassionati sicuramente ce lo berremo molto allora il nostro caffè è pronto adesso lo versiamo è venuto molto bello denso adesso lo assaggiamo si vede il profumo buono si vedono gli oli in sospensione adesso lo assaggiamo così amaro buono si sente la nota amara della robusta sicuramente un caffè da bere tutti i giorni in famiglia amici del mondo del caffè anche oggi abbiamo provato questa nuova miscela del caffè maia per mocha se vi è piaciuto questo video mettete mi piace se avete visto questo video da youtube o dal nostro sito potete andare seguite il link e potete procedere all'acquisto grazie ciao ciao